Nel momento in cui arrivate alla fine del percorso e quindi vi specializzate dovete fare una nuova scelta, quella di fare appunto una nuova polizia assicurativa quello è un momento molto delicato perché il nostro pacchetto, come già sapete sicuramente prevede che la tutela legale possa essere sostituita e andare in forma continuativa ma la polizia di responsabilità civile sicuramente va rifatta quello è il momento in cui dovete lasciare il mondo dell'online significa che è il momento in cui dovete, se volete appunto, consultarvi con uno dei nostri consulenti sul territorio presso le varie città dove siamo presenti oppure telefonicamente per scegliere come fare una nuova polizia assicurativa portandola ad una gestione assolutamente personalizzata e fatta in maniera tradizionale perché la polizia del medico va gestita da specializzato in una maniera completamente diversa perché ci sono varie caratteristiche che vanno considerate in base alle attività che andrete a svolgere noi ovviamente diamo la possibilità ai nostri assicurati che si specializzano di avere una tariffazione speciale e delle condizioni speciali anche lasciando il mondo dell'online